Truc, 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 truc. Siamo stati eliminati dalla Svezia, bravi, bravi. No, ma è stata una tattica intelligente quella di fare continuamente cross, perché loro erano piccoli piccoli e quindi noi crossando li avremmo beffati con i colpi di testa. Una intuizione che purtroppo non è andata a buon fine, però è un'intuizione giustissima, quella di continuare a crossare contro gli svedesi. È come se avessimo giocato contro la Giamaica, avessimo cercato di prenderli in velocità, insomma. È stata proprio azzeccata tutta la partita. E poi, però, vabbè, io quest'estate non vedo l'ora di vedermi Germania-Corea del Sud. Figa. Caci, forse.